Buongiorno, stiamo cercando il mutuo giusto per noi. Perfetto. Eh, senta, se decidessimo di spostare la rata, possiamo farlo? Sì. E in caso possiamo ridurla? Sì. E in più la nostra rata può avere un tetto massimo. Procedureci! Quando cerchi qualcosa in più, spariscono tutti. Solo in Unicredit c'è la gamma Mutui Valori Italia per offrirti più opzioni in un solo mutuo, il tuo. Questo sarà palazzo.